Musica Incidente sulla direttissima all'altezza della svolta per Fiano questa mattina intorno alle 9. A scontrarsi due mezzi, una Fiat Punto e un Mitsubishi Pagero. Successivamente è rimasto coinvolto anche un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino, l'elicottero dei vigili del fuoco, l'elisoccorso del 118 e i carabinieri. Il bilancio è di quattro feriti. Grave il conducente della Fiat Punto che è stato elitrasportato all'ospedale CTO. Sul Pagero viaggiava una coppia che è stata trasportata in ospedale insieme al conducente del furgone. Grazie a tutti.